La fine dell'estate ha in serbo una burrasca che si sta confermando nei più recenti bollettini meteo. La rottura della stagione estiva è ormai imminente e il pericolo principale sembra derivare dagli eventi meteorologici estremi che potrebbero scatenarsi a causa della grande quantità di energia potenziale accumulata a seguito del riscaldamento prodotto dall'anticiclone africano Nerone. Prima di affrontare questa tempesta però dovremo sopportare un'altra ondata di caldo intenso. Infatti per gran parte della prossima settimana il tempo sarà stabile e le temperature aumenteranno sensibilmente specialmente nelle regioni del centro nord e in Sardegna dove si prevedono punte massime di 38-39 gradi. In alcune aree interne della Sardegna le temperature potrebbero addirittura raggiungere i 40-42 gradi. Sembra che fino a sabato 26 agosto il tempo rimarrà stabile con l'alta pressione subtropicale a dominare il bacino del Mediterraneo in modo incontrastato come se fossimo intrappolati in una sorta di blocco atmosferico. Tuttavia l'ultimo weekend di agosto potrebbe portare una svolta significativa. Come indicato dalla mappa che vi presentiamo un potente ciclone potrebbe abbassarsi di latitudine e investire anche il nostro paese. L'anticiclone africano Nerone che ha dominato finora con il suo calore rovente sarà costretto a cedere il passo. L'Italia si troverà in una sorta di zona di convergenza dove interagiranno queste importanti figure meteorologiche. In questa terra di nessuno dove avvengono i contrasti più forti e pericolosi il rischio di eventi meteo estremi si intensifica a causa del calore in eccesso. Secondo gli ultimi aggiornamenti la data da tenere d'occhio è domenica 27 agosto e i giorni successivi quando la burrasca colpirà il nostro paese a partire dalle regioni settentrionali. A causa dello scontro tra masse d'aria diverse, caldo e umido, portato dall'anticiclone africano Nerone, ci sono potenzialità per temporali violenti, con elevato rischio di grandinate e locali nubifragi, come purtroppo ci ha insegnato la cronaca recente. Entro l'ultimo weekend di agosto il peggioramento si estenderà anche alle regioni centrali, portando temporali eventi fortissimi lungo le coste. Oltre alle precipitazioni, questa fase di intenso maltempo causerà anche un netto calo delle temperature. Le temperature scenderanno al di sotto delle medie stagionali su buona parte dell'Italia, cosa che non accadeva da molto tempo. Sarà questo il colpo di grazia per l'estate? È difficile dirlo ora, poiché durante il mese di settembre non escludiamo la possibilità di ulteriori ondate di calore provenienti dall'Africa. Per il momento teniamo d'occhio questa delicata fase meteorologica che potrebbe portare a eventi estremi in molte delle nostre regioni. Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perderti le prossime previsioni del meteo.